A partire dal 4 maggio la Regione Puglia avvierà la distribuzione gratuita di un milione e mezzo di mascherine di comunità per uso civile, partendo dai cittadini che in questo momento vivono maggiori difficoltà economiche. La distribuzione sarà curata dai centri operativi comunali nei quali operano le associazioni di volontariato della protezione civile, in sinergia con i servizi sociali dei comuni. Da lunedì 4 maggio inizia la fase 2 e non facciamo scherzi, non è un liberi tutti, anzi è ancora più complicato della fase 1 perché adesso fino ad oggi siamo rimasti in casa e le nostre difficoltà erano molte ma sicuramente inferiori a quelli che vivremo nelle prossime settimane. La Regione Puglia si è subito mossa per rifornirsi dei dispositivi di protezione individuale e mascherine necessarie al personale sanitario, materiali molto difficili da reperire ma che si è riusciti ad acquistare direttamente in Cina dove vengono prodotti. Inoltre in sinergia con il Politecnico di Bari sono state supportate dal punto di vista informativo tutte le aziende del territorio che hanno deciso di produrre in Puglia mascherine DPI. Decine di imprese si stanno adoperando in tale prospettiva. La Regione Puglia emanerà a breve un bando rivolto agli aziende locali che producono mascherine di comunità ad uso civile per assicurare nel tempo una disponibilità più ampia, allargare la distribuzione e rendere le mascherine accessibili a tutti.